Sarò molto sincero e questo lo dico per la prima volta nel tuo programma, Silvia. C'è una persona. E io sono felicissima che tu sia innamorato. Grazie mille. Grazie. Che bello. Fa il tuo stesso lavoro? No, non fa questo lavoro. Ma c'è una cosa che posso dire. Anche lei è una ex sportiva. Quindi in un certo senso fa il mio lavoro precedente. Ah, quindi è altissima. Gioca a basket. Sì, è una ex giocatrice di basket. È vero, è alta. Ma per me è normale. Perché tu quanto sei alto? Un metro e novanta? Un metro e novantadue. Ah, caspita, altissimo. Eh sì, sì. Sono contenta che tu mi abbia detto mi dispiace per le fan italiane che pensavano... No, no, ma è felice ragazzi, dovete farvene una ragione. Le ringrazio molto, non avrei voluto deluderle, ma ovviamente anche io vorrei costruirmi una famiglia. Scherzi a parte. Mi dispiace che ci siano rimaste male, ma avere una famiglia è una delle cose che più desidero in tutta la mia vita. Grazie. 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 Grazie.